Continua a far parlare la ormai datata inchiesta, il periodo inerente al 2007-2010, sulle presunte irregolarità sulla fornitura dei pasti affidato dalla Regione Veneto a Serenissima Ristorazioni. Un appalto che vede nella formulazione del contratto l'accordo tra le parti per la fornitura di pasti caldi alle strutture ospedaliere, tra cui azienda ospedaliera ULS16 e IOV, al costo pasto di 11,93 euro. Le indagini hanno portato alla scoperta di un costo salito successivamente alla stipula a 17 euro. Il ricavato dell'aumento era utilizzato per l'ammortamento dei costi dei macchinari della faraonica struttura del centro di cottura di Boara. Due le novità, la possibile archiviazione dell'inchiesta della Corte dei Conti, a carico di 40 tra ex manager e amministratori della sanità pubblica padovana, è un segreto accordo con cui Serenissima si impegna ad attuare un forte sconto sul reale prezzo pasti, così da restituire buona parte, circa 1,6 milioni di euro, del debito che ammonta in realtà a 1.900.000 euro.